Lo avevamo preannunciato nell'ultima ora pubblicata sui nostri social nella tarda serata di ieri e così è stato. L'ennesimo episodio di mala gestione del trasporto ferroviario registrato ieri presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale ha lasciato dietro di sé un copioso strascico di polemiche, nonostante la difesa di Trenord. Ma analizziamo l'accaduto. La segnalazione da parte di una coppia di coniugi della Val Chiavenna giunge alla nostra redazione attorno alle 22 di ieri. Loro e tanti altri viaggiatori della linea Milano-Tirano, tra questi molti turisti, rimangono bloccati nello scalo Meneghino perché il regionale Milano-Tirano, il 2576 delle ore 19.20, non parte. L'attesa, assieme al nervosismo, sale, anche perché dopo un ritardo di 70 minuti il treno viene soppresso. E se avessimo dovuto tornare a lavorare domani? Perché siamo ancora in Fighedie, ma... E poi appunto, l'albergo devo pagarlo io, non lo paga Trenord. È una vergogna questa cosa perché, voglio dire, un guasto serio può capitare, ormai è così, ma organizzare dei pulmon sostitutivi, penso che per un servizio pubblico come questo dovrebbe essere il minimo. Tutti i malcapitati viaggiatori diretti in direzione di Sondrio si vedono rimbalzare così dagli sportelli di Trenitalia a quelli di Trenord in un ping pong di responsabilità. Ma non basta perché neanche la speranza di poter fare ritorno a casa con il convoglio seguente, il 2578 delle 20.20, incontra un esito migliore del primo. Ancora altri ritardi ed oltretutto vi è il rischio concreto che neanche l'ultimo dei treni, il 2580 delle 21.20, possa muoversi in direzione di Sondrio, ultima fermata del convoglio. A questo punto i viaggiatori si sentono consigliare da uno svogliato addetto di Trenord di trasferirsi nella stazione di Porta Garibaldi, da cui potrebbe partire, ma il condizionale è d'obbligo, un treno per lecco, destinazione comunque distante e poco collegata, dato l'orario, dalle stazioni di Val Chiavenna e Valtellina. Risultato, la coppia di malcapitati è costretta a rimanere a Milano, pagando di tasca propria il pernottamento in un albergo situato in zona stazione e perdendo oltretutto l'appuntamento con una visita medica, in programma per la giornata di oggi. Inutile pensare ad un rimborso da parte della compagnia ferroviaria in questione. Alcuni viaggiatori muovono speranzosi alla volta dello scalo di Porta Garibaldi, altri telefonano ai propri familiari, confidando in un passaggio. L'ufficio stampa di Trenord, da noi interpellato quest'oggi, individua in un'interruzione elettrica lungo la linea di rete ferroviaria italiana, nella tratta compresa tra Monza e Sesto San Giovanni, la causa di quanto accaduto, specificando però che i treni, alla volta di Sondrio, sarebbero in realtà partiti. Il primo treno è il 25-76, quello in partenza da Milano Centrale alle 19-20. Esatto. Allora, questo in realtà è partito con 83 minuti di ritardo, cioè è stato effettuato ma è partito appunto in ritardo. Il secondo invece, quello delle 20-20, è partito con 57 minuti di ritardo, mentre quello delle 21-20 è partito praticamente in orario. Chi è rimasto a piedi smentisce categoricamente. Ma ieri sera non è partito niente, ne abbiamo chiesto stamattina. All'indomani di quanto accaduto ci si chiede per quale ragione non sia stato possibile organizzare un servizio sostitutivo con Pullman al fine di trasportare i molti viaggiatori rimasti a piedi in direzione di Sondrio. Forte il disappunto per un episodio che ancora una volta mette in luce tutte le vulnerabilità dei collegamenti ferroviari tra la nostra provincia, che sogna avveniristici ampliamenti di rete in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ed il capoluogo Lombardo. C'è da chiedersi, passateci il gioco di parole, in quale direzione si stia andando.